Esclusivo. Non si sa esattamente cosa apparirà nei docchiuserie Netflix di Meghan Markle e del principe Harry. Tuttavia un esperto della Royal ha avvertito che qualsiasi attacco alla famiglia reale potrebbe rendere impossibile la riconciliazione. Meghan e Harry potrebbero trovare impossibile la riconciliazione con la famiglia reale dopo l'uscita del loro prossimo documentario Netflix, secondo un commentatore reale. La coppia avrebbe dovuto pubblicare i docchiuserie alla fine di quest'anno, tuttavia ora non è chiaro quando uscirà dopo il contraccolpo sulla serie di successo di Netflix. The Crown. Il contenuto del progetto è sconosciuto, tuttavia la famiglia reale è probabilmente in bilico sulle docchiuserie, secondo quanto riferito, gli stessi Sussex avrebbero avuto dei ripensamenti sul progetto. Naturalmente, c'è molta preoccupazione per i potenziali attacchi alla monarchia nel documentario di Netflix. Non sappiamo esattamente cosa ci sarà in esso, ma il suo curriculum suggerisce che non si tratterà dall'attaccare il monarchia nonostante lei prosperasse grazie al suo titolo reale, ha detto il commentatore reale Neale Gardiner. Se la serie, o il prossimo libro di memorie del principe, Harry, conterrà dure critiche alla famiglia reale, potrebbe rendere la riconciliazione impossibile, secondo Gardiner. Ha detto, penso che il documentario di Netflix più il libro di Harry potrebbero rendere impossibile una riconciliazione con la famiglia reale. Soprattutto se contengono gravi attacchi alla famiglia reale e all'istituzione della monarchia britannica, si ritiene che una divisione si è emersa all'interno della famiglia reale quando i Sussex si sono dimessi dalla vita reale e si sono trasferiti a Montecito, in California, nel 2020. Tuttavia, le tensioni si sono avvicinate al punto di rottura in seguito all'intervista bomba dei Sussex con la superstar televisiva Oprah Winfrey durante la quale il principe Harry ha affermato che suo fratello, il principe William, e suo padre, re Carlo III, erano intrappolati nella famiglia reale. Dopo la morte della regina Elisabetta II, c'era speranza tra gli osservatori reali che i Sussex sarebbero stati riportati all'ovilè. Ma con l'uscita sconsiderata della serie un accordo che secondo quanto riferito vale l'incredibile cifra di 100 milioni di dollari potrebbe porre fine a tutte le possibilità di riavvicinamento. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.